Ben trovati in questo secondo spazio di Telebari Social Night, Andrea. Uno spazio importantissimo perché è dedicato alla nostra preziosa salute e oggi per la prima volta parleremo di un nuovo argomento. Abbiamo una clip introduttiva, andiamo. La metodica TRAP che ormai penso molti di voi cominciano a capire e a conoscere di cosa si tratta, lo ripeto, l'eboterapia rigenerativa tridimensionale, rivolta alla cura e alla prevenzione delle vene varicose e capillare. Oggi voglio parlare di prevenzione, perché approcciarsi anche alla TRAP a livello preventivo? Perché se è vero che l'esiopatogenesi, cioè la causa della formazione di queste vene varicose, è legata a queste vene perforanti, io consiglio vivamente a tutte le donne e gli uomini che cominciano ad avere dei problemi di ritenzione idrica, dei dolori alle gambe, cominciano a vedere le prime vene capillari che si formano, addirittura le prime vene varicose. A livello preventivo noi riusciamo a curare, a trattare questa situazione andando a ridurre lo stato ipertensivo che si forma a livello di queste vene. Ben trovato Nicola Cortese, medico estetico, chirurgo estetico e grazie di essere qui con noi al dottor Luigi Assorino. Allora, insomma, ci può raccontare questa TRAP che cos'è? Perché insomma è un metodo innovativo che in Italia l'ha fatta in due persone, tre persone. Un po' di più, però certamente non è un numero esagerato. Sotto dieci? Un po' di più, però non è un quantitativo di medici che lo fanno tutti. Che lo fanno tutti, certo. Niente, è un piacere, tanta grazie, buonasera, grazie per l'invito. È un piacere poter parlare oggi di TRAP, quindi di questa fleboterapia rigenerativa tridimensionale, perché io da qualche anno, da dieci anni, sto cercando di divulgare questa metodica e farla conoscere ai più. Per quale motivo si parla di TRAP? Perché, come lei diceva, è una tecnica innovativa che si preoccupa di curare la causa e non l'effetto delle vene varicose. Mi spiego ancora meglio. Diciamo che non va a occludere i vasi come possono fare altre terapie, dalle quali noi certamente non ci dissociamo, ma ovvio è libero ognuno di fare quello che vuole. Però la TRAP, appunto, questa cronoma di fleboterapia va a rigenerare questi vasi che si sono diventati meopreagici. Lei, diciamo, e Calabrese viene spesso anche a Bari, anche dal dottor Cortese, insomma, per fare questo metodo innovativo. Come no, io devo ringraziare il dottor Cortese per la sua ospitalità. Credo che lui abbia accettato il mio invito, anche perché lui parla molto di medicina rigenerativa, e la TRAP, dicevo, una terapia rigenerativa, e da lui da un po' di tempo che mi approccio a fare questa tecnica, credo, e non solo qui, anche a Bari, ma in altre parti della Puglia, quindi credo con ottimi risultati. Assolutamente sì, tutte pazienti super soddisfatte del trattamento. Beh, insomma, siamo super contenti. Io invece volevo chiederti, diciamo, di una radiofrequenza con aghi, vivace, che cos'è e a cosa soprattutto serve? È un nuovo dispositivo, il vivace, che sta spopolando il mercato della medicina estetica, in quanto consente di determinare risultati di lifting molto naturali e rimpolpare i tessuti, soprattutto per l'elassità. Quindi l'elassità sia del viso, quindi un approccio molto bello, molto naturale, che serve a liftare i tessuti, a ridensificarli e, in qualche caso, anche a svuotarli delle adiposità che danno un po' più fastidio, mentre invece a livello del corpo consente di stendere la pelle laddove appunto abbiamo avuto un rilassamento importante. La radiofrequenza funziona mediante degli aghi, che sono in oro, monopaziente e monouso, vengono utilizzati a diverse intensità per andare a determinare vari effetti. Gli effetti più importanti sono sicuramente l'effetto lipolitico. Infatti stiamo vedendo anche queste immagini, dottore, del braccio. Esatto, come possiamo vedere qui sulle braccia, dove gli aghi impostati per lavorare su tutta la loro lunghezza vanno a determinare una necrosi, proprio degli adipociti, che quindi svuotano il loro contenuto e consentono quindi un liftaggio di tutta la regione. A livello invece del derma, la radiofrequenza non fa altro che shrinkage delle fibre collagene, oltre a determinare la deposizione di nuovo collagene, quindi un rimpolpamento di tutto il tessuto. Vabbè, stiamo vedendo anche quest'altra pazienza. Sì, questo per esempio è un trattamento full face. In questa paziente possiamo apprezzare molto bene il contorno occhi e per esempio il bargiglio in sede mandibolare, come risulta essere molto più tirata e quindi anche più gradevole alla vista. Assolutamente. Andrea? Piccolo spazio gossip, prima di tornare a dare il benvenuto nella famiglia di Social Night al dottor Astorino, piccolo spazio gossip, volevo sapere dal dottor Cortese che trattamenti sicuramente Light avrà fatto questa celebrità che si è vista agli Oscar qualche giorno fa per 61 anni suonati. Damien Moore. Una meraviglia. Tutto naturale. Tutto naturalissimo, assolutamente. Io ho visto delle fotografie qualche tempo fa di un... diciamo, rispetto a due anni fa, lei ha perso la gran parte della volumetria malare che le era stata iniettata. c'era qualche foto di un Emmy, se non ricordo male, che era molto infanta. Qui la vediamo con le sue figlie e... Non sembra differenza di età. Fantastica, sembra una trentenne, però devo dire la verità che questo è un risultato di natura chirurgica. Ah, ok. E si vede, è molto palese, nel senso che la Demi Moore avrà fatto sicuramente un bel lifting. Un lifting fatto meravigliosamente, perché è assolutamente naturale, le cicatrici non si apprezzano, e soprattutto l'ha rinfrescata in maniera veramente stupefacente. Ok, chiudiamo lo spazio gossip. E' ovvio che tu sempre gossip. Sì, lo rivendico con orgoglio, sì. Poi faremo i gossip pure su di te con il dottore Cortese, non solo. No. Dottore Assalino, invece volevo chiederle una curiosità. Le vene perforanti, qual è la causa, diciamo, della loro incontinenza? Intanto cerchiamo di far capire cosa sono queste vene perforanti. Beh, le faremo anche vedere ora breve. Sono un sistema di vene che mettono in comunicazione questo sistema di vene superficiali con quello profondo. Quindi nel momento in cui queste vene perforanti... Le stiamo vedendo ora. Benissimo, questi sono i capillari che sono poi l'espressione un po' di questa insufficienza delle vene perforanti. Quando diventano incontinenti queste vene perforanti a quel livello, si crea tecnicamente uno stato ipertensivo che si manifesta sia con questi capillari che stiamo vedendo e poi con quelle, tanto per parlare di bellezza, per restare in tema, quelle fastidiose, brutte vene varicose che tecnicamente non sono altro che la dilatazione di queste vene superficiali che diventano varicose, da qui nove appunto di vene varicose, perché si dilatano a causa di queste vene perforanti che noi curiamo con la trappa. Dottore Assalino, è partito almeno per quanto mi riguarda il conto alla rovescia per l'estate. Ci sono dei trattamenti, dei consigli che lei appunto si sente di suggerire ai nostri telespettatori? Penso che questa è una domanda molto appropriata anche per il periodo. Visto, Maddi, non solo gossip, ma anche domande appropriate. Finalmente! Nel senso che il periodo è ancora quello giusto, anche se poi sono trattamenti che io inizio ad ottobre e finisco a maggio-giugno, ovvio, essendo qui a Bari già fra qualche mese farà caldo, però siamo ancora in tempo per fare che cosa? Fare prevenzione, tanto venendo a seguire una visita per valutare lo stato di salute di queste vene, che non devono essere per forse uno stato pietoso, come dico io, nel senso che devono essere ammalate. La prevenzione è ancora di più e mi rivolgo a quelle giovani che intendono avere anche delle gravidanze o alle persone che fanno sport. E quindi a quel punto è il periodo in cui i consigli sono di fare delle visite, eseguire poi dei trattamenti che danno dei risultati già dalle prime sedute. Poi i consigli più generici sono quelli di non esporsi magari l'estate al sole, perché sicuramente non sono indicate... Nelle ore più calde. Nelle ore più calde, è ovvio. Fare le belle passeggiate e poi, come dico sempre io, lo stile di vita, di cui tanti di noi parlano, ma lo stile di vita e cosa significa? Una sana alimentazione, una sana idratazione e poi, come dire, le giuste passeggiate, potrei dire un'eresia ma non lo è, evitare quegli sporti estremi. Per quale motivo? Perché con gli sporti estremi mettiamo sotto pressione questi polpacci, quindi mettiamo sotto pressione le nostre vene e da lì, fate caso, molti calciatori, molti ciclisti formano poi le cosiddette vene varicose. Quindi no al troppo sforzo. Ecco, detto in questo senso sì, mi sta bene. Invece, dottor Cortese, oggi c'è un uso sempre di più, c'è una richiesta della blefaroplastica. Che cosa serve? Allora, in realtà la blefaroplastica si inserisce il viso di una donna o di un uomo. Assolutamente sì, è un trattamento che viene fatto su entrambi i sessi con le stesse identiche percentuali, perché il peggioramento del contorno occhi è purtroppo un qualcosa che capita a tutti, in quanto il collo e il contorno occhi sono le regioni anatomiche in cui la pelle tende a rovinarsi di più. Risultati che ovviamente differiscono un po' a seconda di quella che è l'età e di quella che è la volontà soprattutto della paziente. La blefaroplastica superiore, come quella che vediamo in questo momento, si inserisce all'interno di un contesto di ringiovanimento del volto, ma ha una parte molto importante proprio nel determinare un refresh soprattutto dell'aspetto stanco. Quindi le mie pazienti mi chiedono di avere un aspetto meno stanco, meno triste e quindi la blefaroplastica superiore. Ora stiamo vedendo anche un uomo insomma. Esatto, blefaroplastica che viene fatta, ricordiamo, in anestesia locale, per cui un livello di tollerabilità estremamente elevato. Si va fondamentalmente con un piccolo intervento a recentare l'applica di cute eccedente, si va a svuotare della borsa adiposa che generalmente arricchisce anche e infarcisce il contorno occhi e dopodiché si va a confezionare una sutura estetica. Sette giorni ci vogliono per la rimozione dei punti e dopodiché a due settimane restituzio ad interim completa. Ok, in inglese si dice? Restituzio ad interim completa? Vado su Google a cercare. La guarigione completa diciamo di tutto. Era chiaro dottore, non si può. Studi classici ho fatto. Quali sono le richieste che diciamo anche il mondo maschile ti fa di più? Allora, sicuramente la richiesta più alta da questo punto di vista è per quanto riguarda la proteina botulinica che ha di bello il fatto di essere, se fatta diciamo con garbo e con criterio, un trattamento assolutamente naturale, nel senso che serve ad alleggerire l'ipertensione muscolare che viene a determinarsi dalle nostre contrazioni involontarie anche durante le ore del giorno. Per cui quello che facciamo è neuromodulazione, ovvero diciamo al muscolo che si deve contrarre leggermente di meno e quindi va a rinfrescare in maniera del tutto naturale tutto il terzo superiore del volto. Ovviamente si trattano generalmente in maniera consensuale sia la fronte che il contorno occhi. E invece, Andrea? Io ti dirò di più, abbiamo fatto un grande lavoro con il nostro comparto tecnico in collaborazione con i dottori presenti qui in studio, abbiamo una clip da vedere insieme. Buongiorno, ci troviamo di nuovo qui presso Informa Medica del dottor Dario Polazzolo dove da qualche mese sto eseguendo questo trattamento TRAP che è una terapia e una cura per le vere varicose e per i capillari, una tecnica reggine ardiva. Mi trovo qui con grande piacere con una delle mie tante pazienti che mi onorano di questa loro presenza e volevo sapere, dopo il quarto o quinto trattamento che lei ha eseguito qui con me come si sente e che benefici ha avuto di questo trattamento? Ma io ero davvero scettica, non ci credevo però dopo questi trattamenti ho le gambe molto ma molto più sgonfie, molto leggere. Avvertivo anche dolori? Avvertivo dolori, arrivavo alla sera con forti dolori e le gambe gonfie che adesso non ci soffro più. Quindi vuol dire che quello che ci siamo detti all'inizio della mia visita l'abbiamo rispettato più o meno in pieno Adesso ci mancheranno qualche altra seduta per terminare il trattamento per andare a togliere qualche altra fastidiosa vena capillare per il resto presumo che la signora sia nettamente soddisfatta Contentissima Grazie Ma grazie a lei Dottor Astorino, quanto la tecnologia ha migliorato tutti gli interventi nell'ambito delle vene per quanto riguarda le vene? Ma credo che abbia migliorato molto ormai le aspettative anche i risultati su queste vene e varie cose che ripeto, questa terapia che ha l'acronomo di fleboterapia rigenerativa tridimensionale agisce sulla causa e non sull'effetto mi spiego meglio mentre le tradizionali tecniche in auge si preoccupano di andare a chiudere i piccoli capillari o addirittura parlare di safenectomia e quindi aspartazione di queste vene con questa metodica noi ci preoccupiamo di andare a rigenerare quindi il risultato è migliore e più duraturo nel tempo e la cosa principale è che noi non andiamo a intaccare il patrimonio di queste vene senza andarle a chiudere o a distruggerle Io invece ho una curiosità per il Dottor Cortese Oggi, diciamo, prima di Pasqua, inizia fra un po' la primavera quali sono i trattamenti che le donne, le ragazze le chiedono di più? Le ragazze? Questo è un argomento difficile, diciamo, molto rischioso perché ultimamente le ragazze mi stanno richiedendo, soprattutto le ragazzine e questa è una cosa molto problematica Anche sotto, diciamo, i 18 anni? Anche sotto i 18 anni accompagnate dalla mamma mi stanno chiedendo il cosiddetto baby botox che è qualcosa di cui purtroppo si comincia a parlare soprattutto in un social che noi, della nostra generazione, non vediamo Baby botox? Baby botox A 16 anni? 17 anni? A 17 anni Io mi sono rifiutato, ovviamente perché per me il botox è un trattamento che ha un'indicazione molto precisa cioè ci devono essere delle rughe dinamiche ovvero delle rughe che si formano a seguito del movimento di un muscolo A 16 anni? 17 anni? Ma di che cosa stiamo parlando? Però, in generale, ecco la cosa su cui invece mi trovo d'accordo e mi è capitato in un qualche caso di trattare delle pazienti anche minorenni ovviamente accompagnate dai genitori è stato proprio il rinofiller Il rinofiller, il naso, è, diciamo, un problema rispetto a tanti altri, diciamo, discomfort inestetismi che ci danno fastidio il naso è un qualcosa che purtroppo è associato anche al pubblico ludibrio cioè che Dante Alighieri, la strega quindi queste ragazzine traumatizzate dai loro compagni di classe laddove, diciamo, il rinofiller ha un'indicazione meravigliosa è dove riesce a essere l'unico trattamento necessario per la paziente quindi, soprattutto, il rinofiller è un trattamento come pochi in quanto io lo definisco un semipermanente perché realmente non si riassorbe come si riassorbono tutti gli altri trattamenti in quanto la sede di inoculo del prodotto è una sede periostea quindi si va molto in profondità per cui il prodotto tende ad accumularsi e a durare molto tempo io stesso ho fatto il rinofiller circa due anni fa e non l'ho mai ritoccato da lui certo, certo ho una proposta, mi è venuta un'idea come sempre poi vediamo se verrà appoggiata per tutte le proposte e richieste di baby botox potremmo portarle in Africa con noi a far vedere le tematiche quelle vere guarda, veramente sfondi un portone aperto da questo punto di vista nel senso che quando mi approccio a queste realtà a queste mamme che portano le figlie di 17 anni a fare questi generi di trattamenti realmente il mio pensiero è in Africa e alle cose che sono realmente necessarie l'Africa che è una seconda casa infatti sì, praticamente sì è stata una seconda avventura un po' più indaginosa e laboriosa rispetto alla prima in quanto abbiamo fatto praticamente quasi il doppio degli interventi interventi tra l'altro di natura anche abbastanza severa e seria abbiamo trattato 42 pazienti in 15 giorni quindi questo è un totale di trattamenti ovviamente interventi la gran parte spesati dalle donazioni che mi sono state fatte in studio e alle donazioni che sono state fatte all'AICPE ovvero l'associazione di riferimento ed è stato bello perché ho potuto anche rivedere dei pazienti operati l'anno scorso quindi fare dei controlli abbiamo visto un paziente operato con un cheloide a gorgiera meraviglioso che si è fidanzato ha trovato lavoro quindi queste sono proprio le soddisfazioni più grandi che il mio lavoro mi dà da questo punto di vista sì abbiamo ricevuto tantissime foto dal dottore diciamo che per una questione di sensibilità per il nostro pubblico abbiamo deciso un po' di essere giusto quelle più diciamo meno invasive le fa onore e poi ci fa piacere sapere che la Puglia ha un gran cuore quindi assolutamente sì devo dire ho avuto mi hanno riempito letteralmente lo studio quando ho fatto capire che a qualche paziente diciamo un po' più amica che potevo portare anche qualche vestitino qualche giocattolo lo studio era invalicabile invaso dai colori, dai pastelli quindi tra l'altro sul mio profilo trovate una raccolta si chiama Mission 2024 e potete trovare lì tutte le storie della mia missione in togo di quest'anno tra cui anche le storie fatte in orfanotrofio fatte presso l'Apetite Coll dove ho distribuito appunto le cose datemi dalle mie pazienti bravo bravo Nicola Cortese grande cuore e grande professionalità vi troviamo entrambi su Giovinazzo assolutamente come no io ringrazio il dottor Luigi Assorino medico di essere stato con noi di averci spiegato che cos'è la trap grazie di insomma della vostra presenza noi a questo punto nella terza parte chi avrà cultura e spettacoli un grande nome di una fiction storica e beh non vuoi dire niente no va bene ok grazie e a fra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti